Io ero venuto a parlare perché c'è una persona vicina al mister che ha praticamente letto quello che senza squadra sostanzialmente. E allora ero venuto a discutere e poi ci eravamo sentiti col mister per venire inizialmente ad allenarmi perché dire come andava, se si poteva avere una soluzione positiva. Poi dopo a inizio stagione non ci siamo risentiti e non c'è stata possibilità inizialmente poi dopo un po' di tempo mi hanno chiamato l'inizio di allenarmi e ho fatto altre settimane di allenamento da un minuto in serato e si è arrivati alla soluzione di ieri, mi ha firmato e ho fatto il contatto. Io avevo molta voglia di venire qua per tanti motivi, sicuramente la vicinanza casa, sicuramente tante persone che mi hanno detto che la Gianna è stata sana, stata seria, dove si può lavorare bene e quello che un anno prima per me trovare un ambiente del genere, una società del genere, è stato un nostro problema perché adesso sono la mente, oggi invece, naturalmente, spero che anche la Gianna sia contenta di avere il cliente. dunque la cosa si è risolta così